Con il centrocampista Francesco Velardi alla fine di questa partita una vittoria rosso-blu, 1-0, un grande match. Allora tu che sei entrato proprio quasi all'ultimo hai potuto constatare tutto l'andaccio, allora come è andato? Un commento su questa partita? Una bella prestazione da parte di tutti, anche di chi è entrato pochi spiccioli come me, contento per la prestazione essendo tra i più vecchietti, tra virgolette. Diciamo che siamo tutti, la maggior parte, una formazione composta da molti giovani, dei giovani che voglio sottolineare molto bravi e che si applicano durante l'alleamento con le indicazioni che c'è dà il mister. Entrambe le compagine abbastanza combattive fino alla fine? Sì, vabbè, sono le classiche partite in Coppa Italia dove comunque col caldo, con le prime partite si fa fatica, però contento per la prestazione non era facile perché con appunto il caldo e tanti attenuanti che le partite di fine agosto sappiamo tutti come possono andare. Soddisfatto del risultato e della prestazione soprattutto. Grazie, la prossima. Grazie a voi. Buonasera.